E il MES è stato bocciato, cioè la modifica del trattato è stata bocciata. Perché? Perché non c'è mai stata una maggioranza in Parlamento per ratificare la modifica di un trattato che qualcuno ha sottoscritto. E io credo che questo sia il problema che bisogna valutare, no? Cioè perché l'ex governo Conte ha sottoscritto la modifica di un trattato quando sapeva che non c'era una maggioranza in Parlamento per approvarlo? Perché è questo che ha messo l'Italia in una posizione oggettivamente di difficoltà. E non potrebbe essere diversamente perché si sa come la pensavano i partiti, la maggioranza dei partiti di centrodestra e il Movimento 5 Stelle ha sempre dichiarato. Anzi ha dichiarato di essere stato sempre contrario e infatti ha votato contro la ratifica della modifica del trattato. Quindi io penso che sia stato un errore sottoscrivere la modifica del trattato perché questo ha creato una situazione, sapendo, difficile, sapendo che non c'era una maggioranza in Parlamento per ratificare la modifica di questo trattato. Grazie. Grazie.